Buonasera, so che è un orario insolito per fare delle stories, ma siccome devo aspettare, sono appena uscita dalla doccia, devo aspettare che si asciughino i capelli, devo aspettare il mio fidanzato che torni e devo preparare la borsa perché domani devo fare una vetrina, allora ho pensato di condividere con voi le cose, gli oggetti che mi porto, i tools, gli strumenti che mi porto per fare le vetrine. Bene, considerate che io non faccio danni i vetrine troppo elaborate, però c'è sempre un imprevisto, sempre dietro l'angolo, quindi ho messo insieme un kit, che per me è il kit base, salva vita in ogni situazione e pensavo fosse utile magari condividere con voi, adesso vi faccio vedere cosa metto in questo zaino, già si vedono dei guanti, ma vi spiego tutto. Allora, vediamo se riesco a mostrarvi tutto, questi sono dei calzari, semplicemente dei copri scarpe che io uso per entrare in vetrina, salire sui mobili, mobili e casse, eccetera, eccetera, in negozio così che non sporco niente, non mi devo togliere le scarpe, ma devo solo togliere i calzari per andare fuori dalla vetrina a vedere se è tutto ok. Dopodiché sempre per protezione questi guanti con il grip di gomma che sono strautili per svitare cose, insomma fare lavori all'interno del negozio senza doversi massacrare le mani, metro fondamentale, questo da 5, poi porto sempre una spatola di metallo e delle lamette a lama semplice che sono così e insieme a loro porto l'alcol o una soluzione tipo quella per lavare i vetri così per le vetrofanie sono a posto, per lo scotch se devo togliere qualcosa. Questa è una pinza multiuso, vediamo se riesco a aprirla con una mano, fondamentalmente funziona come un coltellino svizzero per intenderci, però la pinza ecco adesso con una mano non riesco, però poi ha tutte le lame, le punte e i vari cacciaviti. Altre cose che io uso per il fissaggio, una piccola bolla che mi porto per poter attaccare qualcosa, insomma essere sicura che sia diritto anche solo per una vetrofania, gancini, qui ne ho alcuni sfusi ma sono i gancini classici da staccare al soffitto per poi appendere qualcosa col filo di nylon che io ho finito, tra l'altro devo comprare. Biadesivo, di quelli cicciottoni che si possono insomma utilizzare per vari ed eventuali e anche chiudini, questi sono molto resistenti, sono abbastanza grossi, anche di questi me ne porterò soltanto alcuni, non tutti. Poi se passo alla cura dei capi o dei prodotti che dovrò esporre sicuramente mi sarà utile una spazzola di quelle appiccicose, proprio il rotolo classico di quelli con l'apiccicosa e io mi porto di solito una clothes bag, questa è una vecchia clothes bag di Prada di quando lavoravo per loro, che io uso per pulire i gioielli, per pulire la fibra della cintura, insomma per non lasciare le ditate. Grazie. 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 Grazie.